Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Stefani di Monaco, avete visto quanto è bella sua figlia? Una giovane donna di un altro pianeta Sicuramente è una delle reali più affascinanti del mondo. Ve la presentiamo Stefani di Monaco.Vi presentiamo la bellissima figlia di Stefani di Monaco L'avete mai vista? La giovane è di una bellezza senza eguali, proprio simile alla nonna Grace Kelly Stefani di Monaco la principessa ribelle.Classe 1965, Stefani è la terzogenita della principessa Grace Kelly e del principe Ranieri III di Monaco, nonché sorella minore di Carolina e Alberto II Soprannominata da sempre a Palazzo Reale come la principessa ribelle, ha dato in passato diversi grattacapi alla famiglia Grimaldi Stefani di Monaco.Rispetto agli altri reali, ha sperimentato davvero di tutto nella sua vita Non si è limitata semplicemente al suo ruolo da principessa ma ha tentato di condurre una vita diversa dai suoi fratelli Sapevate, per esempio, che Stefani è addirittura stata una famosa stilista? Ha creato anche un suo marchio di costumi la Pool Position che ha riscosso grande successo Nel 1986 si è dedicata invece alla musica, per un breve periodo ha inciso brani e addirittura un animo Altrettanto movimentata la sua vita sentimentale.Dopo un primo matrimonio con Daniel Ducru è finita in malora, si mormora per via del tradimento compiuto da lei con Raymond Gottlieb, una sua guardia del corpo, ritrova l'amore con il Circense ad Hans Lopez Peres La principessa è mamma di tre figli, Louise, Pauline e Camille I suoi pargoletti sono davvero bellissimi ma c'è soprattutto una delle sue due figlie che ha colpito il mondo per la sua straordinaria bellezza Chi è la bellissima figlia della principessa monegasca?Stefani di Monaco è una mamma felice Ha tre meravigliosi figli, Louise nato nel 1992 e Pauline nata nel 1994 Entrambi sono frutto dell'amore con il suo ex marito Daniel Ducru è Successivamente, nel 1998, la principessa è diventata mamma anche di Camille che è nata da una relazione extracognugale con la sua guardia del corpo, Jean Raymond Gottlieb Oggi vogliamo parlarvi proprio della sua ultimo genita.Camille Gottlieb L'avete mai vista? Lei è davvero bellissima! Camilla è la sorellastra di Louise e Pauline poiché è nata fuori dal matrimonio non è discendente legittima al trono monegasco Sembra una dea.Carnagione chiara, capelli biondi, occhi azzurri è uno spettacolo La somiglianza con la nonna Grace Kelly è davvero incredibile Molti l'hanno definita l'erede della ex attrice considerata una delle donne più belle del mondo Grace Kelly e Camille.Anche a Camille non mancano fascino ed eleganza Che cosa sappiamo su di lei? Camille purtroppo non potrà mai diventare erede del trono monegasco come i suoi fratelli perché è nata da una relazione extracognugale ma sembra non importarle questo dettaglio La sua vita è incentrata su altro. Definita a Palazzo Reale la nomada è ribelle proprio come la mamma. Appassionata di cinema e teatro ma anche di sport e soprattutto di calcio spesso è protagonista della movida monegasco Purtroppo su di lei non si hanno molte altre informazioni. Sappiamo però che ha messo in piedi una fondazione con lo scopo di sensibilizzare i giovani sugli effetti devastanti dell'alcol Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao